Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Fenix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti